Previsioni per oggi. Al mattino, in pianura. Coperto con possibili deboli piogge. In montagna, coperto con deboli nevicate. Nel pomeriggio, in pianura. Coperto con possibili deboli piogge. In montagna, coperto con pioggia e neve. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura. Coperto con possibili deboli piogge. In montagna, coperto con piogge intermitte. Nel pomeriggio, in pianura. Nuvoloso con qualche schiarita. In montagna, nuvoloso con qualche schiarita.